Governatore D'Alfonso, da dove si comincia adesso? Ma intanto dalla presa delle misure, delle questioni che sono appese o che assumono anche caratteristiche di emergenza. Questa mattina ho voluto conoscere le figure che presidiano i settori più delicati della vita dell'ente Regione. Il dirigente del bilancio della Regione, ho incontrato il direttore degli affari della Presidenza, ho salutato il segretario delle sedute della Giunta e poi anche il dirigente preposto alle risorse umane della Regione, per avere una prima fotografia sapendo che ci sono in alcuni settori delle questioni problematiche che vanno conosciute, riconosciute e poi anche fronteggiate. E poi ho voluto anche incontrare nel merito il Sindaco dell'Aquila per cercare di conoscere lo stato puntuale della ricostruzione, i flussi di competenza e di cassa e poi domani mi recherò al Ministero e il Tesoro ad incontrare il sottosegretario Giovanni Legnini, poiché con lui voglio anche attivare una misura propedeutica al buon governo, fare in modo che si conosca la consistenza del deficit, del debito e delle situazioni potenzialmente debitorie, poiché quello sarà il di e sacuo dal quale io rispondo per il futuro. Sono interessato al buon governo del futuro a fare in modo che ogni giorno dei prossimi 1800 giorni sia un giorno dedicato ogni volta per pensare provvedimenti e attivare provvedimenti. Lei, Governatore, è stato uno dei pochi politici in Italia che ha vinto una elezione dove aver fatto due campagne elettorali per la stessa tornata, perché è passato dalle primarie e questo, come diceva anche in questi giorni, ha portato a visitare tante piazze dell'Abruzzo e a conoscere tanta gente. Quell'Abruzzo normale che lei continua a sottolineare nei suoi interventi. Nel Terramano in particolare, questo Abruzzo normale, di che cosa ha bisogno secondo lei? Ma intanto di misure straordinarie per fare sì che ricominci a girare la ruota dell'economia, la natalità imprenditoriale della piccola e media impresa, il suo irrobustimento e anche fare in modo che si possano internazionalizzare, poi ristabilire anche una condizione di funzionalità delle infrastrutture. Dobbiamo ricominciare a fare manutenzione delle strutture che ci sono e poi dobbiamo cominciare a riaumentare le infrastrutture per aumentare la velocità e la comodità negli spostamenti. C'è bisogno per esempio anche di fare sì che i fiumi abruzzesi e anche quelli del Terramano non scarichino in mezzo a mare inquinamento o impraticabilità dell'acqua del mare d'estate. Noi dobbiamo sapere che il mare adriatico per noi è il più grande parco naturale di cui dispone l'Abruzzo. Ma questo non è sempre un risultato certo sul piano della balneabilità poiché si richiede anche politiche, politiche riferite ai depuratori dei comuni, politiche e investimenti riferiti al risanamento dei fiumi. L'ecosistema fluviale deve essere una priorità dell'azione di governo. C'è uno strumento che si chiama contratto di fiume, la regione Umbra è una regione che si è data da fare arrivando alla seconda generazione dei contratti di fiume, anche l'Abruzzo deve su questo fare di più. Lei in alcuni discorsi e ragionamenti, in un ultimo incontro con i presidenti delle regioni limitrofe a cui la Bruzzese ha sempre parlato di grande marca adriatica. A noi ci viene in mente un particolare dettaglio della grande attività legislativa della regione Marche che potrebbe fare il parallelo con la nostra. La regione Marche si è espressa molto il sostegno e aiuto ad esempio di Banca Marche che è stato uno degli esempi forse un po' più difficili come quello della Banca Tercas. Fino adesso la regione è stata un po' definita latitante sulla situazione del credito di questa situazione. Lei cosa ha intenzione di fare? Dobbiamo attivare una sollecitudine prudente come si richiede per chi ha una visione liberale, liberal-democratica nei confronti dell'economia, sapendo che l'economia e l'attività bancaria sono questioni della società. Però questo non significa che si è giustificati nel disinteresse o nell'indifferenza. Noi dobbiamo attivare misure, condizioni e interventi con la logica della sollecitudine prudente, facendo in modo che si determini un'attenzione da parte di coloro i quali possono e debbono intervenire, sia provenienti dal sistema del privato-privato, sia magari provenienti anche dal sistema del cosiddetto privato-comunitario come sono le fondazioni, magari per attivare una presenza ponte. Io lo voglio fare sapendo che la questione bancaria è una questione molto delicata e che attiene alla sfera dell'economia, che non coincide con la sfera né della politica né dell'attività istituzionale. Però io devo assolutamente fare l'impossibile fino al rispetto del senso del limite per quanto concerne il ristabilimento di una vitalità bancaria con cuore e cervello sul territorio abruzzese. Mi darò da fare mettendo in campo non un comportamento animato da indifferenza o da disinteresse, ma con una sollecitudine attenta. A proposito di questo, vi ho parlato spesso di espressioni territoriali, anche delle realtà degli enti locali. Mi riferisco specificamente alla ASS, ma anche all'Istituto Zorro Filattico. Lei si è espresso proprio in particolare sulla ASS. Serà a provvedere al recupero della territorialità come esperienze professionali alla guida di questi enti? Io ho ricevuto un sacco di segnalazioni in questi ultimi giorni, settimane, di un eccesso di nomine, di trasferimenti, di incarichi intervenuti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Questo mi fa molto pensare in negativo. Però voglio conoscere bene i dossier, le procedure, i fogli di carta che descrivono cosa si è combinato e realizzato. Detto questo sono convinto che l'Abruzzo delle università, delle competenze sanitarie, delle competenze professionali, possa produrre anche una tale expertise, una tale attrezzatura che magari all'interno di questa expertise si può senza dubbio rinvenire il chi sa assumere anche responsabilità primarie nella guida di questo importante settore, che è il settore di un diritto fondativo qual è quello della salute. Di sicuro io non sono malato di esterofilia. Il potere ha sempre detto va usato. Qual è il limite per un amministratore? Il diritto penale costituisce un limite rispetto all'esercizio della funzione che la democrazia al pari del fisco genera insediando ed edificando il potere. Il potere coinvolge, chiama in causa l'attività normativa e l'attività amministrativa. Io ritengo che questa risorsa generata dalla democrazia debba essere usata con velocità, sapendo che esistono delle forme tipiche di utilizzo della risorsa potere per potere fare del bene, per potere fare in modo che nasca un'impresa, per potere fare in modo che sorga un ponte, per potere fare in modo che un sistema di condotta fognante sia funzionante, per potere fare sì che un porto abbia un'autorità di gestione, per potere fare sì che un aeroporto abbia un suo progetto di sviluppo e di crescita. Certo noi non dobbiamo prefigurare un'attività di rilievo istituzionale animata per esempio dalla premura che specifichi non è di mia competenza. Io mai dirò non è di mia competenza, poiché ritengo che la compiutezza della competenza dell'ente regione attualmente dopo il 2001 è tale che in ogni settore della vita individuale e collettiva si può rinvenire uno spazio di ausilio, di aiuto della competenza dell'ente regione. Noi abbiamo nei fatti margine di azione su tutte le frontiere riguardanti la vita individuale e collettiva, si tratta soltanto di volersene accorgere. Lei è stato sostenuto da una grande coalizione, adesso pensa che questo le possa provocare dei problemi nella composizione della sua squadra? Assolutamente no, basta vedere chi è stato eletto, ma poi voglio anche aggiungere che tutti quelli che hanno fatto parte di questa squadra di governo saranno delle antenne, delle luci per il buon governo del territorio. Noi sappiamo che c'è molto da fare in Abruzzo, ci sono centinaia di problemi da affrontare, tutti quelli che hanno idee verranno tenuti da conto. Lei ha cominciato oggi con una promessa mantenuta, è stato da TRI. Sì, sono stato a dire per me una preghiera, ma laicamente può essere anche un pensiero, sulla tomba del Presidente Mattucci che per me costituisce un importante riferimento del buon governo regionalista abruzzese. Lui è stato il primo a concepire una legge sulla programmazione economica, che è il superamento del poiché c'è la volontà si può fare tutto. Mattucci ha concepito la legge 92 dell'88, che è una legge cardine di tutta la crescita e progressiva competenza istituzionale in tema di qualità delle decisioni dell'ente regione Abruzzo. Poi sono stato anche a rivolgere un pensiero sulla tomba di Luciano Russi, magnifico rettore dell'università che mi ha visto studiare e anche trascorrere gli anni migliori della mia giovinezza qui a Teramo, facendo gli interessantissimi corsi di scienze politiche ai tempi di Russi, a dottrine politiche, di Lamberto Mercuri a relazioni internazionali, di Chiappetti a diritto pubblico, di Lanaro a storia dei partiti politici, di tantissime altre belle figure tipo Ornaghi a scienze della politica, Mazzonis a storia contemporanea, ho avuto dei professori straordinari, ho seguito le lezioni anche di Ader Iacobelli quando è venuto a fare giornalismo del grandissimo Sergio Turone a storia del movimento sindacale, è venuto anche Silvio Lanaro a fare storia dei partiti politici, è stata una bellissima esperienza della quale ringrazio il rettore Russi, ma anche tutto il corpo accademico, i colleghi studenti, vorrei anche ringraziare quelle mura che tanto mi hanno permesso di desiderare e di realizzare. Teramo perde con le elezioni di Alfonso, diciamo così tra virgolette, quattro assessori e un governatore, cosa deve temere la provincia di Teramo dal nuovo governo? Assolutamente nulla, per me questa è una sfida per far capire che non c'entra nulla dove l'utero di mia madre mi ha fatto nascere, io rendo certo il fatto che la mia vicinanza, la mia prossimità a Teramo produrrà un rafforzamento di qualità delle decisioni a favore dell'economia, della società e della cultura di Teramo. Io ho sempre sostenuto che la natalità di una figura politica non assicura niente, ci vogliono le idee, l'attrezzatura culturale e poi anche lo zaino carico di esperienza. A me non manca neanche il coraggio e la determinazione, come mi hanno riconosciuto tutti i cittadini che mi hanno sempre votato. Teramo mi trovo a giudicare, per adesso ringrazio Teramo e la provincia per l'alto numero di consensi che mi ha tributato. Governatore, infine un impegno formale sulla sanità? Fare in modo che ci sia un supplemento di velocità nella diagnostica e fare in modo che per trovare la cura ad alta densità medicale di cui ha bisogno il cittadino che perde autonomia o che produce fragilità o debolezza o addirittura una patologia, la ricerca della cura ad alta densità medicale deve essere facile, non deve essere su misura di uno che ha relazioni personali per cui può telefonare al prepotente di turno, deve accadere in automatico. E poi voglio fare sì che tutto il territorio della provincia di Teramo, anche le montagne, anche le lontananze possano contare su pari opportunità rispetto alla città capoluogo o alle zone comode della costa. Noi dobbiamo organizzare una rete delle urgenze e emergenze che riesca a coprire dovunque la domanda di salute. Grazie a tutti. Grazie a lei e grazie a questa televisione che fa un grande servizio pubblico.